Jacques Derrida e la filosofia decostruttivista. Io sono incredulo, sono sbigottito. Bisogna andare fino in fondo per mostrare la totale autonegazione di queste prospettive. Sì, Jacques Derrida, per esempio, è interessante il suo tentativo di ribaltare il rapporto tra parola e scrittura. Ma anche quello è uno dei tentativi che sottintendono la volontà di negare la verità e la possibilità di coglierla. Perché? È stupefacente il tentativo proprio di voler fare di tutto per non permettere di cogliere la verità, da questo punto di vista. Perché? Qual è stato l'intento di questa filosofia decostruttivista, soprattutto per come l'ha strutturata proposta Derrida? L'intento è stato quello di voler tentare di rilevare presunte contraddizioni nella filosofia metafisica. E in particolare, quindi, in tutte le filosofie fondazionaliste, quelle che ritengono giustamente che sia necessario rilevare un fondamento su cui costruire tutte le conclusioni. Perché altrimenti ogni conclusione sarebbe un'ipotesi arbitraria. Tralasciando il fatto che il fondamento non deve essere inteso come fa la logica isolante, cioè come qualcosa che non può avere una giustificazione. E quindi come se fosse una specie di assioma, così, dogmatico. No, il fondamento deve essere qualcosa di auto-evidente, nel senso che risulta essere necessario da un punto di vista immediato, ovvero la cui auto-negazione si niega. E quindi mostra la necessità assoluta di quel fondamento. Lo mostra come necessario. Severino ha portato questo ragionamento nel massimo grado di rigore logico, teoretico, filosofico. E' stato quello di rilevare presunte contraddizioni appunto nella metafisica e quindi nelle filosofie fondazionaliste e anziché provare poi a risolverle, cercare di mantenerle aperte. Proponendo soluzioni non risolutive dei presunti problemi che esse credevano, pretendevano, pretendono di aver trovato. Allora siamo davvero a una situazione paradossale, totalmente paradossale, dove il non voler arrivare alla verità ha portato a voler smontare una struttura teoretica come la metafisica tradizionale, come le filosofie fondazionaliste, e anziché poi ricongiungere i pezzi separati, creare i presupposti per non permettere che si ricongiungessero più. Così da lasciare per sempre insolubili le questioni trattate in questa filosofia. Così da non poter mai arrivare a una verità, perché c'è proprio, a me pare proprio che c'è proprio il rifiuto in quelle filosofie, c'è proprio il rifiuto per la verità. E quindi si cerca di fare di tutto per evitare che si possa giungere alla verità. Chissà perché, forse perché si ha paura di arrivare a una verità definitiva che chiude i giochi. Ma non è così, perché tanto la realtà è infinita. Le tesi di Severino non sono la chiusura della filosofia, sono la nascita della filosofia nel suo massimo grado. Più che nascita, diciamo, lo sviluppo compiuto di un certo tratto della filosofia. E da lì nasce poi un grado superiore di ragionamento, di riflessione filosofica. Mai apparso prima. Mai apparso prima. Quindi non è una verità, un tratto della verità, una chiusura della filosofia, ma è l'inizio di un'avventura più vasta, più ampia, più profonda. Invece, come ha inteso fare la filosofia decostruttivista, ha creato i presupposti per non poter fare poi autenticamente filosofia. Perché, ammesso e non concesso, si riuscisse a sfruttare tutta l'impalcatura della metafisica. A che pro, anziché trovare delle soluzioni a quelle presunte contraddizioni, cercare volontariamente delle soluzioni non definitive, ma anche addirittura ambigue, magari condite di contraddizioni, magari addirittura paradossali, così che non si possa, come ad esempio le antinomie kantiane, così da non poter, da non poter arrivare poi a una soluzione definitiva. Chiaramente le filosofie decostruttiviste hanno fatto questo anche perché hanno creduto che, di fronte a vari nodi cruciali, la metafisica tradizionale abbia scelto il lato più conveniente per se stessa. Le filosofie decostruttiviste credono che quel lato fosse quello sbagliato, fosse quello di una sorta di imposizione che andasse a favore di una certa prospettiva filosofica. E quindi hanno cercato, anche per questo tali prospettive, di ritornare su certi passaggi per dare ragioni, diciamo, alle conclusioni scartate dalla metafisica occidentale. Però senza appunto dare delle ragioni necessarie e incontrovertibili, ma non tanto perché non si può dare una ragione definitiva e necessaria senza la struttura originaria, ma perché se si fossero date soluzioni definitive e incontrovertibili, per quanto riguarda da parte delle filosofie decostruttiviste, si sarebbe fatto il gioco della metafisica che appunto procede, ha proceduto in questo modo per stabilire la correttezza di una qualunque proposizione, innanzitutto ha cercato di valutare se fosse o no contraddittoria e ha quindi scartato tutte quelle che risultavano contraddittorie, a prescindere se l'analisi fosse stata giusta o sbagliata, quello era il metodo. E quindi se la filosofia decostruttivista seguisse tale metodo, non starebbe al di fuori della metafisica, ragionerebbe totalmente all'interno delle categorie metafisiche, da cui comunque essa ammette di non poter uscire totalmente, perché comunque le categorie fondamentali sono già date, ed è all'interno di quelle che si vuole ragionare. Solo che le filosofie decostruttiviste appunto hanno cercato di decostruire anche il significato dei termini, quindi cercando di deformare il significato originario di quei concetti. Il problema è che non solo è un tentativo che mi lascia totalmente incredulo, perché mi meraviglia il livello di volontà di potenza, di negazione della verità. Cioè addirittura non è bastato tentare di negare la possibilità di arrivare a una verità, ma no, addirittura voler creare, fare di tutto per smontare una struttura teoretica generale per impedire, per impedire per sempre di poter arrivare a una verità assoluta. Una verità certa, assoluta, non è esattamente mai assoluta. Certa sì, perché la verità non può mai essere assoluta? Perché non esiste di per sé, a prescindere dalla coscienza in cui appare. Ma questo non vuol dire che allora sia soggettiva. E lo spiegherò ancora meglio in prossimi video, anche se già in qualche modo ne ho parlato nei precedenti. Allora, è come se appunto un individuo di fronte a un puzzle lo prendesse, lo smontasse e poi facesse in modo che i pezzi non si possano più ricongiungere tra loro. Mai. Questo a me sembra che abbia voluto fare la filosofia decostruttivista. Quindi totalmente uno scopo, diciamo, anti ricerca della verità. E' proprio un tentativo di non volerla far manifestare. Comunque il tentativo, oltre che essere totalmente sbagliato di per sé, non riesce neanche a porsi, è totalmente autonegante. Perché? Perché, cara mia filosofia decostruttivista, caro Derrida, ma è molto semplice, hai dovuto presupporre, tu e la filosofia decostruttivista, la certezza incontrovertibile, la verità incontrovertibile di tutti i significati che hai utilizzato per sostenere una tesi così insostenibile. Hai dovuto usare, hai dovuto presupporre la certezza dei significati adottati. Innanzitutto hai dovuto presupporre che le connessioni tra le premesse, e le conclusioni del ragionamento adottato per giustificare la tendenza e i presunti risultati della filosofia decostruttivista fossero incontrovertibilmente se stessi e non altro, e che significassero incontrovertibilmente se stessi e non altro, che da quelle premesse e dalla loro concatenazione seguissero necessariamente delle conclusioni e non altre. Perché altrimenti, se non si fosse assunto questo, tutto quello che è stato affermato dalla filosofia decostruttivista sarebbe posto totalmente in modo indeterminato, quindi non sarebbe posto affatto, sarebbe posto e non posto, affermato e non affermato, affermato come equivalente a tutto il resto, e quindi non affermato. Siccome però non sembra proprio che la filosofia decostruttivista intenta sostenere che essa è al contempo totalmente giusta e totalmente sbagliata, ma che lei è giusta. Certo, a parole magari nella filosofia decostruttivista si lascia aperta la possibilità che essa sia a sua volta qualcosa di fallace, ma intanto ritiene che i suoi rilievi siano giusti e che gli elementi che ha usato per fare certi rilievi siano incontrovertibilmente giusti e validi, incontrovertibilmente significanti come se stessi. Ma questo significa assumere a monte l'identità dei significati in senso forte, quindi usando, presupponendo l'incontrovertibilità e la necessità del principio di non contraddizione. Se non si assumesse questo a monte, non si potrebbe pretendere di affermare niente. E quindi si mostra come il tentativo di voler decostruire i cardini, le fondamenta della filosofia metafisica, i tentativi siano stati totalmente inghiottiti, inglobati da ciò che intendevano negare, cioè da quei principi. Ora, attenzione, io non sto difendendo la metafisica per i suoi contenuti particolari, ma per la sua struttura, che è quella che poi è stata epurata e portata al massimo grado di correttezza da Severino. Infatti, per i contenuti in sé per sé, l'ontologia di Severino è anche una smentita radicale della metafisica, per una marea di motivi, a incominciare dalla differenza ontologica tra essere e ente, dove non può sussistere perché l'essere e gli enti avrebbero in comune il loro essere dei positivi distinti dal nulla. E quindi anche gli enti sarebbero essere, perché non sarebbero nulla. Lasciamo perdere questa, questa è una delle tante cose, poi vi è il concetto di Dio, appunto che si ricollega all'idea di essere trascendente. Questo non vuol dire che gli enti siano tutto ciò che c'è. C'è anche l'apparire, che comunque è un essente, ed è determinato proprio come apparire dei contenuti d'esperienza. Ma non è separato da essi o indipendente. Né gli enti sono inseparabili dall'apparire, né l'apparire è separabile dagli enti. Quindi, travasciando adesso le differenze tra l'ontologia severiniana e la metafisica ordinaria tradizionale, qui si vuole rilevare il fatto che comunque il tentativo della filosofia decostruttivista sia totalmente caduto perché ha dovuto usare tutte le categorie e i presupposti della metafisica classica. E quindi, non è che, attenzione, non è che sia risultata contraddittoria e basta per questo motivo, no, è risultata autonegantesi, perché il suo obiettivo era di negare la validità di quei principi e li ha usati. E usandoli li ha affermati come giusti, a prescindere dal suo intento e dalla sua capacità di affermarli come giusti. Li ha adottati e quindi li ha affermati e quindi il suo tentativo di negarli non riesce perché non è una negazione totale e non è neanche una negazione determinata. Attenzione, non si può dire che li abbia affermati e negati allo stesso tempo perché nel momento in cui li ha affermati anche il tentativo di negarli si fonda innanzitutto sulla loro affermazione, quindi l'affermazione sottointesa e implicita di quei principi viene prima del loro tentativo del tentativo della filosofia in questione di negarli. E quindi il tentativo di negazione non riesce proprio. Non è che li ha affermati e poi negati, li ha solo affermati involontariamente in modo sottointeso. Ha provato a negarli, non ha potuto farlo perché il tentativo si è retto su quelli se per assurdo li avesse negati avrebbe negato anche il punto di partenza che avrebbe permesso di negarli e quindi sarebbe sprofondata comunque in un'autonegazione del suo risultato. Già che il risultato non è separabile dal modo, dal procedimento, dal metodo adottato. E allora qui siamo davvero di fronte a un tentativo super nichilistico di voler negare non solo le conclusioni che hanno valenza di necessità e incontrovertibilità ma proprio la possibilità di arrivare alla verità. Poi, attenzione, io posso anche capire che molti contenuti della metafisica siano poi sbagliati, molte conclusioni siano sbagliate soprattutto relative all'essere, al rapporto tra l'essere e gli enti ricordando che gli enti sono esseri anche loro perché sono positivi, sono dei positivi e non un nulla. e riguardo a tanti aspetti io capisco le motivazioni diciamo che hanno dato la partenza al tentativo decostruttivista ma non condivido i modi i modi sono fallaci totalmente errati c'è poco da fare la filosofia decostruttivista a mio avviso è proprio sbagliata completamente per il modo per la struttura che ha acquisito perché si autonega è come se non riuscisse neanche ad affermare quello che intende ad affermare poi per quanto riguarda i contenuti sono anche affascinanti interessanti le intenzioni sono anche in alcuni casi condivisibili però non tutto ovviamente perché l'intenzione principale era quella che ho detto prima cioè di negare la possibilità di arrivare a una verità incontrovertibile ma perché perché si è percepita questo tentativo come qualcosa di il voler affermare una verità incontrovertibile come qualcosa di negativo e di contrario allo spirito della filosofia io lo ripeto non sono d'accordo in parte sui contenuti e su alcune intenzioni della filosofia decostruttivista ma non va bene il modo non è in quel modo che si possono confutare e negare determinati contenuti se si vuole negare la maggior parte dei contenuti sbagliati affermati nella metafisica tradizionale c'è la struttura originaria quella la filosofia di severino è veramente una filosofia decostruttivista ma coerente e precisa rigorosa nel massimo grado veramente la filosofia di severino decostruisce tutto l'edificio erroneo infondato di tutta la filosofia pezzo per pezzo ma perché lì si mostra come tutto il progetto tutta l'opera di severino non è autoreferenziale in alcun punto non c'è nessuna interpretazione fuorviante è tutto ripreso fedelmente è tutto ripreso fedelmente elementi essenziali sono stati già forniti da tutta la filosofia severino ha usato gli strumenti migliori come ad esempio l'elencos aristotelico per mostrare come da esso non seguissero le cose che pensavano Aristotele e Platone che hanno inteso difendere il divenire nella sua interpretazione nicirista ma che seguissero altre conclusioni non in disaccordo peraltro ma in accordo autentico con l'esperienza fenomenologica concreta che è un che di complesso non è mai un'esperienza separata dalla struttura logica della realtà e quest'ultima non è qualcosa di astratto separato dal contenuto in carne e ossa come potrebbe dire Husserl con la fenomenologia con l'epochè con la riduzione fenomenologica poi lo ripeto si è anche interessante il tentativo di ribaltare il rapporto tra la parola e il linguaggio ma anche quello denota la volontà di di negare appunto la possibilità di indicare con il linguaggio con la parola una verità incontrovestibile perché perché mentre la parola ha un significato che coincide con il significato che il parlante in quel momento vuole affermare e quindi è un significato incontrovertibile da questo punto di vista il linguaggio non è un significato univoco perché si presta a varie letture interpretazioni l'ermeneotica l'ermeneotica che poi tra l'altro studia anche quali sono le condizioni di possibilità per poter interpretare in un modo o in un altro di determinati testi e si occupa anche quindi del metodo del modo non solo delle interpretazioni però anche quel tentativo che può essere interessante è anche curioso però alla fine mostra sempre quel tentativo sbagliato di voler negare la verità peraltro affermandola implicitamente perché come dicevo prima gli strumenti le categorie che anche Derrida ha usato sono sempre ricadenti nella metafisica nei suoi principi fondamentali e poi peraltro a me anche se tra parentesi anche se nella filosofia decostruttivista a parole si dice che esta non intende affermare qualcosa di certo appunto cercando anche di evitare di fornire soluzioni definitive a me sembra invece che però che presupponga di essere certamente nel giusto in quello che crede di aver rilevato che sia certamente nel giusto nel credere che non ci siano principi validi universalmente e tra l'altro presuppone per credere questo perché è l'unico modo per credere questo attenzione presuppone la certezza che noi siamo io empirici collocati in un mondo fisico o comunque in un mondo naturale esterno della nostra coscienza che il linguaggio sia reale e giustificherò ancora una volta in che senso intendo reale e che non sia solo invece un'ennesima rappresentazione in che senso allora certamente è evidente che esistono i segni grafici i fonemi che nella nostra esperienza sono associati a dei significati ulteriori che riguardano il piano linguistico io direi che il piano semantico è onnipresente perché anche i segni prima di significare qualcosa nell'ambito linguistico significano innanzitutto visivamente uditivamente quello che sono prima quello è il loro iniziale originario significato poi a quel significato si congiunge un altro che è quello del linguaggio e quello linguistico però oltre questa evidenza cioè che esistono i segni i fonemi e i significati associati ad essi non c'è altro non c'è evidenza che il linguaggio sia il prodotto storicamente determinato dell'attività umana certo certo che sembra questo e chi lo nega che sembra così io non nego niente Severino non ha mai negato che il mondo che appare ci persuade di questo e come ma con tutto tutto il contenuto della terra isolata cioè della dimensione che di cui abbiamo esperienza adesso è internamente articolato proprio per simulare questo e quindi che cos'è che simula e rappresenta l'idea di un linguaggio storicamente determinato tutte le configurazioni sensibili del mondo che direttamente o meno ci rappresentano l'idea di un linguaggio storicamente determinato attenzione per avere questo scenario che ci rappresenta quell'idea non è necessario che quell'idea esista concretizzata realmente che si sia concretizzata realmente è sufficiente che nelle nostre coscienze appaia questo scenario che ci rappresenta l'idea di un linguaggio storicamente determinato è ovvio che c'è una complessità sterminata anche nell'ambito del linguaggio della produzione del linguaggio del significato la semiotica la semantica e poi anche l'interesse per la sintassi stessa non solo del linguaggio ma di ogni sistema logico formale informale per carità questa enorme complessità non è negata ma non può essere un elemento sufficiente non è un elemento sufficiente per credere e accettare acriticamente che quell'idea di un linguaggio storicamente determinato sia una certezza e viene assunto come certezza ed è l'unico modo per poi reggere tutta la discussione successiva che si fa su questi assunti il problema è che delle prospettive che si reggono su premesse ipotetiche per giunta che risultano confutate dalla struttura originaria risultano fallaci perché se delle premesse incerte sono peraltro confutate dalla struttura originaria sono confutate dalla struttura implicitamente adottata anche dalle prospettive della filosofia della svolta linguistica e quindi dalle filosofie analitiche che studiano il linguaggio in particolare da quelle che sto indicando ora e adesso mi sono focalizzato un po' su Derrida ma vale in generale per tutte le filosofie di quel tipo il discorso sull'adozione della struttura originaria da parte di queste prospettive siccome dalla struttura originaria segue la negazione di quelle conclusioni di quelle da loro affermate esse risultano in oggettiva autonegazione quindi chi volesse tentare di confutare anche solo una virgola di quanto detto dovrebbe innanzitutto dimostrare e non presupporre che le altre filosofie siano al di fuori della struttura originaria dopodiché dovrebbe comunque fare i conti con tutto quello che ho mostrato che basta e avanza per smontare totalmente le pretese della filosofia decostruttivista i cui intenti in parte lo ripeto sono anche condivisibili a volte per certi aspetti ma il modo no il modo è essenziale in filosofia in filosofia le conclusioni le idee di per sé non hanno un valore hanno valore nel momento in cui sono giustificate altrimenti sono opinioni lo ripeto in filosofia in filosofia le idee i concetti i pensieri le conclusioni non hanno di per sé valore se intesi isolatamente dal modo attraverso cui sono stati raggiunti perché il loro significato è inseparabile dal modo in cui sono stati raggiunti è la prospettiva isolante che crede di poter separare le cose di trattare isolatamente i significati e i risultati addirittura di vari procedimenti e quindi è per questo motivo che il modo il metodo che ha preteso di adottare la filosofia decostruttivista non è assolutamente valido è completamente sbagliato e ho mostrato che è totalmente autonegante ma poi lo ripeto la cosa che più mi ha lasciato sbigottito incredula è il volere a tutti i costi rifiutare la verità addirittura cercando di fare di tutto per impedire senza riuscirvi di poter cogliere la verità attraverso quello che ho detto nella prima parte del video grazie grazie grazie